Una puntata speciale di Tra le righe, quella di oggi, con un amico di Padre Pio TV, un inguaribile innamorato che a 90 anni vuole ancora cantare la sua canzone d'amore. Ho il piacere di ritrovare nei nostri studi a distanza di sette anni Don Vincenzo De Florio, sacerdote pugliese, che accolgo davvero con grande affetto qui in mezzo a noi. Ciao, ben trovato Don Vincenzo. Grazie, ritorno sempre volentieri a un po', non dico a chiacchierare, ma a gridare quando Dio è pazzo di amore ci fa pazzi se cerchiamo di amare. Allora, tu ritorni per parlare della tua vita, ma non solo, della tua storia di prete nomade tra i Rom e i Sinti e racconti la tua storia di sacerdote nelle periferie, ma anche sacerdote delle periferie, come titola il sottotitolo del tuo libro, edito dalle edizioni dioniane di Bologna, ma tu sei prete? Così si intitola questo libro con una immagine storica riportata in copertina. Allora, Don Vincenzo, da dove vogliamo partire? Io partirei da questa frase, si chiama Mal d'Africa per Monsignor Comboni, Mal di Hansen per Padre Damiano, Zingarite per Don Vincenzo. Ma che cos'è la Zingarite di cui sei affetto? No, perché quando, dopo due anni che io dicevo al mio vescovo, ero parroco, una volta che ho chiuso il seminario minore, perché lo si legava a quella di Taranto, allora il vescovo, giustamente, un rettore di seminario, dove lo mando? E mi mandò in una parrocchia fra quelle più più chicche. Qualche precedente a me l'avevano fatto vescovo, e allora già ero Monsignore, perché i superiori hanno sempre voluto che andassi su, 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 e il Signore ha sempre cercato di dire a Vincenzo, su, su, io non ci sto più, io sto giù, giù, giù. No, sta anche su, 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 però sto più giù, giù, quando più giù vai, ecco. E allora quando, finalmente dopo due anni che dicevo al vescovo, guarda che, perché si erano accampati alle periferie della parrocchia, dove ero parroco di questa cittadina di Massafra, città, perché è abbastanza, si erano accampati in periferia, io sentivo che non potevo disinteressarmi. Gli schivavo anch'io, perché dico, potrebbero, invece di andare in giro, potrebbero lavorare, potrebbero, invece di sfruttare questi bimbi qua, creare compassione con questi mocciosi qua. Gli schivavo anch'io, mi chiedevo se gli devo dare l'elemosina oppure no, o non è giusto a dei paracchia, passiti e aumentare, capivo niente anch'io. Poi è stato tutto mutato, è tutta una storia stupenda quella degli zingari, sempre un popolo, no? Se non ci fosse dovremmo inventarlo, no? Un popolo che non ha bisogno di terra, non ha bisogno di una, non c'è una nazione degli zingari, dovunque vanno si sentono in terra, un popolo libero e poi eccetera. Allora ecco questa zingarite, perché questa zingarite? Allora quando il vescovo finalmente, dopo, dico io non ci vado se tu non mi mandi, pastore degli zingari sei tu che Cristo manda a te a evangelizzare i popoli, io posso essere pastorello. Mi mandò dopo due anni, se tu Vincenzo trovi un altro prete che ti sostituisce in parrocchia ti mando. Mi mandò, ma mi chiamò dopo un mese, penso che avesse paura, povero Vincenzo, chissà come si rovina tra gli zingari, mi mandò in ospedale, a fare i cappellani in ospedale a Taranto. Allora ecco la zingarite, pensava che ci fosse stato qualche virus di zingarite che mi avesse, ma la zingarite non passò, continuava a dire non ci vado se tu non mi mandi, ci vado solo se tu mi mandi. Di Vincenzo gli zingari non hanno bisogno, hanno bisogno di chiesa, la chiesa è il sacramento di salvezza e non c'è nessuno, stanno alla porta di chiesa, della chiesa si va in Africa, si va in Asia, si va e questi ce l'abbiamo, ma chi va a evangelizzare? Ma noi non siamo un istituto missionario, che c'entra? Ma siamo missionari tutti. Va bene, allora zingarite, perché è questo mal d'Africa, dice Comboni, che ti prende se vai in Africa. Oppure questo ti prendi come padre Damiano, diventi un ansegnano se stai soffrendo di anse. Oppure prendi la zingarite se stai con gli zingari. La zingarite, dunque tu appunto mi hai raccontato che i tuoi superiori tentavano di portarti sempre su su su, ma invece di aveva altri progetti su di te, quindi giù 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 insieme agli ultimi, insieme ai più poveri. L'incontro con gli zingari, come è avvenuto? Come ti sei approcciato a loro? Ma soprattutto poi che cosa è nato da questo incontro? Che cosa hai imparato? Che cosa hai raccolto da questa esperienza? Quanta umanità hai raccolto? Sì, sì, sì. No, anzitutto una premessa, no? Dio ha un sogno su ciascuno di noi. È un papà stupendo. Sarebbe bello chiamarlo mamma, ma non siamo abituati. È più che mamma. È lì che mi ribello quando pensano a un Dio che ti manda all'inferno se sei peccatore. Ma un papà, una mamma che manda all'inferno un figlio? Non me lo so. Il Vangelo, leggiamolo, ma alla luce di questo. L'evangelista cerca di dire con parole umane quello che è, però è Cristo la parola del padre. Allora se Dio è padre, lasciamo andare un po' alla teologia, ma alla realtà stupenda. Dio è mamma, per cui vuole la nostra felicità. Ma la vera felicità l'incontri se quello che stai vivendo sta realizzando il sogno di Dio su di te. Dio ha un sogno su ciascuno di noi, come qualsiasi mamma ha un sogno che vuole che il figlio sia felice e pensa che la felicità sia o facendo il dottore o facendo l'astronauta o facendo, va bene. La vera felicità la trovi se quello che tu stai vivendo corrisponde al sogno di Dio. Ma non solo questo dia un sogno su di noi, ma dice San Paolo, ci prepara prescino il terreno dove ci vuole, vuole che realizzassimo il suo sogno e poi ci mette dentro. Ma qui mi sono trovato in mezzo, ecco io lo vedo così, il sogno di Dio che io, non come i miei superiori sempre vedendolo, conoscendomi, mi volevano spingere sempre più su. Ma Dio che il suo sogno invece, a me ogni volta, quando si legge la mia storia, si vede che ogni volta che c'era il pericolo che io salissi su su, c'era sempre un angelo custode. Una volta sarà la malattia che cadi malato e di tubercolosi, per cui pensavo di essere prete perché sono bravo, sono promosso ogni volta. No bimbo mio, sarai bocciato, ma non una volta, ma rischi di essere bocciato due volte quando cadi malato e di tubercolosi e non potevo studiare. Che vai a fare l'esame di maturità dopo tre anni che non hai studiato niente, tutte le sintassi e tutto. No, per dire, quando si legge il libro si nota che ogni volta che c'è qualcosa che ti porta su, il Signore, per dire, incominciò subito da studente. Non sarai prete perché è bravo. Questi anni di malattia li passavo con i contadinelli e i pastorelli. Il Signore mi fa legare subito. Dove c'è un'umanità povera, che questi qui o avevano il papà, eravamo in guerra, o l'avevano il papà in guerra, o l'avevano prigioniero, o l'avevano defunto. No, per dire, è stato già là. E così si ripete. Ogni volta che i superiori cercano di lanciare Vincenzo in qualche posizione un pochino più su, ci manda. Allora la malattia. Poi mi manda che, prima che venisse il mio professore di Dommatica ad essere il mio vescovo, e voleva che io andassi a Roma a studiare, così mi qualificavo come dottore, come tutto. Intanto, prima che lui arrivasse, mi avevano fatto parroco dei contadini nella riforma agraria. E dicevo, ma se io ho detto ai contadini voglio morire con voi, stare qui con voi finché muoio, e ora me ne vado subito a studiare. Per dire, e ora mi manda i contadini, e ora mi manda gli zingari. Poi sul più bello che mi fanno vicario generale, ah, finalmente, ora mi fanno vescovo. Spesso che in Albania la chiesa chiedeva preti dalla Puglia per andare vescovo in Albania. Ah, che bello, ora mi fanno vescovo, arriva il Brasile. Per cui ogni volta che si cercava di, il Signore provvedeva a mandare l'angelo custode. Probabilmente perché gliel'avevi chiesto anche tu, inconsciamente, avevi chiesto anche tu al Signore, indicami la mia strada. La mia strada non è fare il vescovo, ma è andare in mezzo agli ultimi. Allora, insomma, volevo essere, non solo vescovo, ma racconto, volevo essere anche cardinale, anche papa. Perché sono bravo. Uno quando sente che è bravo, ma che sei bravo e bravo. Ma come hai detto tu stesso, il Signore ha un sogno su ciascuno di noi, quindi il suo sogno su di te non era questo. Allora, due passaggi vorrei riportarti. Inevitabile per Don Vincenzo attingere abbondantemente agli insegnamenti e agli esempi del Papa. Notando quanti in chiesa tornano con difficoltà o non tornano più per mancanza di luce, si chiedeva come mai in un mondo tanto bisognoso di luce, di amore e di pace, non si andasse ad attingere alla fonte. Ne parlavamo prima, prima di questa intervista, del fatto che tu trovi più umanità, più comunione quando celebri la messa in carcere, anziché in una parrocchia. No, non è che non trovo comunione, non lo so se c'è comunione quando celebro. Cioè, quando celebro in carcere, non che c'è comunione, so che c'è Cristo. O c'è comunione o non c'è comunione, so che c'è Cristo, perché dice, ero carcerato e sei venuto a visitarmi. Allora, so che c'è Cristo. La comunione poi sta un poco alla responsabilità di ciascuno crearla o meno. Ma lui c'è però. Quando celebro invece nella parrocchia, la Chiesa sta lodando Dio, sta celebrando un sacrificio stupendo di lode e di riconciliazione. Ma se nella comunità non c'è comunione, non c'è amore, non c'è Dio. La liturgia, la Chiesa sta lodando Dio. Ma nella comunità c'è Cristo. No, e non è tanto la comunione se c'è Cristo o no, ma se c'è comunione. Non è tanto se c'è comunione, ma se c'è Cristo. Nel carcere c'è Cristo. L'ha detto lui. Nella comunità parrocchiale, se non c'è comunione, può capitare, non lo so se capita, non lo so. Ma se non c'è comunione, non c'è. Celebriamo, cantiamo tutte le messe che vuoi, tutti i rosari che vuoi. Se non c'è comunione, non c'è Dio. Noi cantiamo dove c'è comunione e amore, dove c'è amore, lì c'è Dio. Cantiamo il contrario. Dove non c'è comunione, dove non c'è amore, non c'è Dio. C'è, ma non c'è in noi. Sta in noi, ma non c'è in noi. Il mistero. C'è anche un'altra bellissima definizione, Don Vincenzo. Le periferie come luoghi di beatitudine. Gli zingari e poi arriva il Brasile. Ecco, raccontami della tua esperienza in Brasile. E poi arriva il carcere e poi arrivano gli africani. e continua una storia. Cioè dove c'è umanità che soffre, ti senti a tratto, perché sono luoghi di beatitudine. Io sempre dico, è santa pazienza quanto dovremmo cambiare completamente. Ci fanno, ci insegnano e ci fanno imparare a memoria i dieci comandamenti. Ma a che proposito li impariamo a memoria quando sono scritti nel cuore? Ciascuno, visto anche tra gli zingari, mi diceva lo stupendo Mate. Diceva, ma guarda, dei dieci comandamenti non ne osserva nemmeno uno. Però sapeva, sentiva che non si può ammazzare, non si può rubare, non si può... I comandamenti sono scritti nel cuore. Ma perché dalla legge di Mosè non andiamo alla legge di Gesù che ci ha dato, non sul monte Sinai, ma sul monte delle beatitudini? Io quando mi esamino sui comandamenti mi sento più che santo. Quando mai rubo, immagina il seminario dei sette anni, sono andato a messa tutte le domeniche, anche tutti i giorni. Mi sento santo se mi esamino sui comandamenti. E quando mi esamino sulle beatitudini? Non sono povero, non sono semplice, non sono umile sul serio, a parole sì. Perché non impariamo? I comandamenti li sappiamo a memoria. Le beatitudini non sappiamo nemmeno quante sono, anche se poi San Matteo sono nove, San Luca ne fa cinque. Non sappiamo, a massimo sappiamo forse la prima, beati i poveri. E saminiamoci sulle beatitudini. Per cui in carcere, o quando abbraccio adesso gli africani, oppure in Brasile, oppure gli zingari, sono luoghi di beatitudine. Perché l'umanità che sta vivendo una sofferenza, sta vivendo un odio, sta vivendo un disprezzo. Ecco, sono luoghi di beatitudine. Io sento questa, vorrei comunicarla a tutti. Sai, hai visto la trasmissione con Lucia a TV 2000, l'incontro con la Lebrosa. Cioè avverti un abbraccio che non puoi comunicare quello che... Non posso raccontare quello che ho vissuto con gli zingari, raccontare la stupenda avventura del Brasile. Quello che vivo quando nel carcere, ogni sabato mattina nel carcere, sabato sera abbraccio gli africani quando gli porto la parola di Dio della domenica. Senti che stai abbracciando loro, ma ti senti abbracciare da Dio. Ma sono cose che vivi, non puoi trasmettere. Tu dici, com'è triste la vita se non ti innamori dei poveri, siano essi homeless, zingari, detenuti, senza radici o senza fede. La tua invece è una vita gioiosa, perché tu abbracci quotidianamente queste persone. Sì, sì. Le hai abbracciate anche, no? Sì, sì. È stupenda, ma ripeto, la si può solo vivere, perché è chiarissimo il Vangelo. C'è il regno di Dio, c'è il regno. Cos'è questo regno? Venga il tuo regno, cos'è questo regno? No, questa ricchezza di amore, di condivisione, di attenzione all'altro. Regno di amore dove c'è più serenità, dove c'è più, capito, a me. Per cui ti senti nel regno, nel regno che proprio, narro continuamente, anche in Italia, quando sono andato libero da tutto, dovevano loro darmi, dovevano, mi davano da mangiare. Anzi, dovevano, se dovevo andare a mangiare da uno, dovevo andare da mangiare dall'altro. Dovevano loro. Se vai povero, non sei tu che devi dare. Se tu, lo metto subito al principio, che sei poveri, andiamo perché noi siamo, loro non sono. Noi siamo e noi abbiamo, loro non hanno. No, no, vai libero, vedrai che loro ti danno. Vediamo se ricordi questo episodio, ma credo che tu lo ricordi perfettamente. Il tuo ultimo Natale in Brasile. Il Signore mi ha fatto dono di entrare nella grotta di Betlemme accanto ad una giovane mamma malata, sfruttata e abbandonata. L'ho incontrata, commossa per l'inaspettata visita, in una baracca nei pressi della Fogna Puzzolente, dove vive il figlio. Anche lui, tra topacci e droga di colla, quel santo giorno, fai poi riferimento alla mangiatoria di Betlemme. Cosa ricordi di quel tuo ultimo Natale in Brasile? Ma lo dico. Avevo chiesto la Cappella delle Suore, che sono lì in Brasile, ma se ho, no? Loro operano anche con i Meninos di Lua, una realtà che lì viene descritta, proprio da mettere. I bambini di strada, le mani di cappella. E questi bimbi che vivono nelle fogne, no? Queste grosse fogne con frattopi. E si sa che lì la droga che hanno è la colla di calzolaio, per cui annusano continuamente, è un allucinogeno. Allora io volevo, diceva Gesù Bambino, Gesù Bambino, stai qui nel gesso, nella cappellina delle Suore, vorrei abbracciare il Gesù Bambino, che soffre in queste fogne, che soffre. E allora andai con le Suore, trovai la mamma di uno di questi bimbi. Anche lei era stata Menina di Rua, questa ragazza di strada. Lì è una cosa comune, è inutile. Se leggetti il libro troverete qual era la... Ho visto, ho vissuto questa situazione. Ecco, allora dicevo, vorrei tanto abbracciare, sentire come fra gli zingari. Mi sono sentito fratello, mi sono sentito... Non immaginavo nemmeno. C'è chi addirittura vedeva in me il suo papà, vedeva paternità. Va bene, mi sono trovato benissimo. Come vorrei sentirmi abbracciare Don Menino di Rua. Eh, Vincenzo, quando è uscito dalla fogna questo bimbo. Volevo sapere almeno il regalo che mi dicesse almeno il nome. Eh no, eh no, eh no. Il nome significa che ti sta consegnando se stesso. Vincenzo, non sei capace di vivere nella fogna, abbi pazienza. Sei stato capace di vivere con gli zingari? Sì, anzi, anzi, non sei capace di vivere. Non me l'ha detto, ma capisci di vivere. Sì, gli ho dato una monetina giusto per stringergli la mano. Ma non si compra con una monetina, con un'amicizia. Vite, battere le mani a chi mi ha aiutato ad essere un altro. Sarei stato un altro se non avessi incontrato questi fratelli. Che poi si è sviluppato con il Brasile, è scoppiato ancora di più. Che è lì, è che vuoi. Specie che mi è capitato di stare al nord-est del Brasile. Il nord-est, diciamo, come noi diciamo nella Calabria, come noi diciamo che so io nei luoghi meno appariscenti. Capito a me. Le periferie, le periferie delle quali Don Vincenzo è sempre stato un grande innamorato, così come emani una grandissima gioia appunto quando parli degli ultimi che hai incontrato e che continui ad incontrare anche oggi nel cammino della tua vita. Hai superato un importante traguardo, che è quello dei 90 anni. Ieri parlando con padre Marciano Morra, al quale si è molto legato, siete amici, mi ha detto che Don Vincenzo è un prete che ci crede veramente. È un prete? Che ci crede, che ci crede veramente. Quindi un complimento in cui appunto ha racchiuso tutta la stima che ha nei tuoi confronti. Sei un vulcano. Voglio dire, l'augurio è che possiamo anche noi arrivare alla tua età con questa gioia e soprattutto con questa voglia di comunicare l'amore che il Signore ha per gli ultimi. Ma se posso dire solo questo, un credere però in Cristo che c'è fatto uomo, nell'uomo che tu abbracci e c'è Cristo e c'è Dio. Hai capito? Questo che tu credi in Cristo ma non stai credendo nell'uomo, non stai credendo né nell'uomo né in Cristo. Se tu invece stai credendo che è un'immagine stupenda di Dio, ogni fratello che Dio ti sta dando in dono, o lo accogli adesso o non lo accogli più. Hai perso. Ti ringraziamo per essere stato con noi, Don Vincenzo. In conclusione, giusto un minuto, un minuto e mezzo, che cosa ti auguri per il tuo futuro? Non so, non vedo il futuro, vedo sempre il presente. Che cosa ti auguri per il tuo presente? Che il Signore non mi faccia mai mancare questo ossigeno di vita, di gioia, di pace che mi viene dalle persone umili, dalle persone semplici. E non mi sono mai mancate. Perché immagino con che gioia vado a celebrare il sabato mattina in Brasile, con che gioia ogni sabato abbraccio questi fratelli. Io dico, bacerei i vostri piedi tanto scottano di sabbia. Allora bacio le spalle, che chissà quante ferite avete sulle vostre spalle, tutto quello che avete passato per arrivare fino qui, per dare a me la gioia di abbracciarvi. Ti ringrazio davvero di cuore per essere stato con noi, Don Vincenzo De Flore, ricordo nuovamente il titolo del tuo libro, Ma tu sei prete, edizioni dioniane di Bologna, storia di un sacerdote delle periferie. Io aggiungerei anche nelle periferie, perché come hai detto tu stesso, le periferie sono davvero luoghi di beatitudine. Grazie di cuore per essere stato con noi. Grazie a voi di questa gioia, di gridare la mia gioia. Grazie davvero per avercela comunicata. Grazie a Don Vincenzo De Flore. Grazie, grazie a voi e grazie a Dio. E grazie anche a tutte le periferie. Grazie a Don Vincenzo De Flore